ditemi che non è vero ditemi che non è vero ditemi che non è vero ragazzi nuovo infortunio per gulam questa volta rottura della rotula e dovrà stare fuori per altri quattro mesi ma dai ragazzi com'è possibile c'è non solo a noi ci capitano tutti questi infortuni tutte queste rotture del crociato e poi quando stanno per recuperare si vanno sempre ad infortunare nuovamente c'è come milic che aveva recuperato dal dal primo infortunio della rottura del crociato ora anche gulam proprio quando stava lì lì per recuperare c'erano molte possibilità che poteva essere convocato giovedì per la partita di europa league contro l'ipsia e oggi improvvisamente arriva questa notizia che gulam si è rotto questa rotula rotula che sarebbe una parte del ginocchio e inoltre si è rotta anche la rotula nel ginocchio nel quale è avvenuta la rottura del crociato ma dai ragazzi però ora quest'altra cosa non ci voleva proprio questo vuol dire che ormai stagione finita per gulam e inoltre gulam che quindi rivedrà il campo dopo quasi un anno perché gulam si fece male il primo novembre nella partita di champions league contro il manchester city e quindi ora diciamo rientrerà tra giugno luglio ma ovviamente la stagione agonistica le partite ufficiali cominceranno tra metà agosto inizio settembre e quindi gulam che ritornerà in campo dopo un nove dieci mesi e le alternative lì sono poche ragazzi però dico io no tu ci sta pure ci sta pure che nel mercato in estate non avevi preso nessun altro terzino perché avevi due giocatori in quel ruolo cioè gulam e mario rui ma tu arrivato il mercato di gennaio non puoi non puoi non prendere il terzino non puoi non prenderlo perché sì è vero che stava recuperando che stava recuperando abbastanza velocemente gulam però sappiamo che non è facile rientrare subito in forma dopo dopo una rottura del crociato e poi secondo me questo infortunio di oggi è stato dovuto proprio al fatto che sono stati o sono stati scusate troppo velocizzati i tempi perché ricordiamo che il recupero da una rottura del crociato va dai quattro ai cinque mesi e ora per gulam non erano passati nemmeno ancora quattro mesi quindi che senso ha avuto ora forzare gulam forzare gulam e qui e questo quindi ha portato a tenerlo fuori altri quattro mesi e non aver preso nessuno va sempre perché i soldi da i soldi dalla dalla cassa non si devono cacciare per carità poi la stessa cosa di milic no ci sta che tu in estate non hai preso nessuna alternativa in attacco oltre a mertens e milic perché milic sarebbe stata un'alternativa di lusso però tu vedi che c'hai solo mertens lì davanti c'hai solo mertens o al massimo gallejon potrebbe essere adattato e tu non vai a prendere nessuno nel mercato di gennaio non vuoi andare a prendere inglese perché anche lui è mezzo infortunato e va bene ma vai a valla a prendere una punta ragazzi abbiamo avuto sì anche molta sfortuna però la società ha delle colpe pesanti e questo diciamo è anche uno scherzo del destino nei confronti della società che nel mercato di gennaio non ha non ha voluto acquistare nulla e oltre al fatto che per il napoli è grave questa cosa mi dispiace anche molto per gulam perché si è andato a fare male a novembre proprio nel momento della sua maturità definitiva dove si stava dimostrando tra i migliori terzini sinistri del mondo ora aveva la possibilità di rientrare nuovamente e certo ora quando rientrerà dopo un anno in campo ci vorrà il tempo questo questo altro infortunio potrebbe pregiudicare pesantemente pesantemente la carriera di gulam e lì sulle fasce stiamo sempre nella stessa situazione quindi i terzini sono tre isai maggio e mario ruvi quindi se mancherà mario ruvi qualche partita isai verrà adattato a sinistra e maggio e maggio giocherà a destra ora si dice anche che tonelli potrebbe essere adattato come terzino che qualche volta tonelli ad empoli l'ha fatto il terzino con sarri però ragazzi dai non si doveva arrivare a questo punto non si doveva arrivare a questo punto cioè che pur di non cacciare i soldi di non prendere nessun terzino a gennaio abbiamo costretto gulam a forzare pesantemente il suo rientro per poi farlo fare male gravemente ancora una volta c'è veramente veramente io non so più che dire come detto tanta moltissima sfortuna ma la società ha delle colpe davvero gravissime e bisogna migliorare assolutamente la gestione e detto questo ragazzi continuiamo a sostenere la nostra squadra e il nostro allenatore in questa lotta scudetto davvero se questo scudetto arriverà questo gruppo di calciatori e il nostro allenatore maurizio sarri dovranno essere ricordati un domani da noi tifosi napoletani di più di come oggi è ricordato maradona per le sue vittorie a napoli perché praticamente in campionato abbiamo 60 punti dopo 23 giornate veniamo da sette vittorie consecutive stiamo facendo record sul record giocando quasi sempre con gli stessi 11 quindi tutti noi tifosi napoletani siamo vicini a gulam immagino davvero il suo dolore perché mi sa che la sua voglia di ritornare in campo era davvero tanta e anche per lui personalmente deve essere stata davvero una mazzata pesante quindi detto questo ragazzi io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre forza napoli sempre forza napoli sempre forza napoli